ciao ciao bravo via no da chi c'ho la reddita del asilo senti ma no no stasera qua ti incontrerai Ma è l'abbracciato sicuramente L'abbracciato Perché sì, lo conosci Ma come? Madonna Andate piano Metteteci un quarto d'ora in più Ma non bevete O chi deve guidare Esatto, il Bob si chiama Il Bob Bob è colui Che ti rompe Sei il guys Bob Esatto, guys Bob con la speranza che Bob vi porta Bob Cicleta Quindi vi auguro che i ragazzi vi abbiano sentito Ok Allora, siamo pronti Siamo pronti a dare Le opzioni Le opzioni Ai nostri amici da casa Che cliccheranno Bellissimo, vado a vedere l'ora Anche lì Ah, pure tu cliccherai Io sono il primo fan Io sono il primo fan Ok, allora Se cliccate qui Venite insieme a noi A Caserta E andiamo a conoscere Luca Cassani Quindi qui Se invece cliccate qui Che cosa facciamo? Andiamo tutti quanti insieme A Roy A conoscere E incontrare Con Romero Con l'intervista di guys Invece se cliccate qui Andiamo invece al Sirius A conoscere Christian Mann A voi la scelta A conoscere Christian Mann 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 A conoscere Christian Mann